Era già successo nel 2014, poi dopo l'intervento della stampa era stata trovata una soluzione e tutto è andato liscio fino a novembre, ma ora ci risiamo. L'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano rifiuta il trattamento emodialitico ad Anna Maria Perrinella, 65 anni, non vedente, affetta da malattia renale cronica, residente periodicamente a Greci. E sembra non essere l'unico caso, sarebbero già sette idealizzati rifiutati, non solo quelli per il periodo estivo turistico, ma anche quelli fidelizzati, già afferenti all'ambulatorio di insufficienza renale cronica. Il problema starebbe non nel reparto, che è considerato una vera eccellenza, con macchinari nuovi ed ambienti curatissimi, ma per la carenza di personale infermieristico ed OS. Una carenza che noi stiamo denunciando da mesi, da quando è stata aperta la lungodegenza, senza incrementare il personale o aumentare le ore di quello già presente, sottraendolo invece qua e là dai reparti. Ma torniamo al caso della signora Anna Maria al Calvari rirecarsi tre volte a settimana a Grotta Minarda, presso un centro convenzionato, dovendo percorrere tanti chilometri in più e superare lo scoglio del traffico di cardito. Un fatto non da poco, se si considerano le sue tante patologie, compresa la pressione molto bassa. La signora ovviamente non è autonoma e dunque i disagi sono tanti anche per i suoi familiari, in particolare per il fratello, Antimo, suo tutore, e per la cognata, Pina Martino, costrette a percorrere tutte le volte 120 chilometri per non stare lì al centro dialisi, ad aspettare le quattro ore necessarie per il trattamento dialitico. A distanza di qualche anno ci ritroviamo di nuovo nella stessa condizione, lo sfogo della signora Pina. L'ospedale invece di fare passi avanti fa passi indietro. Veniamo considerati turisti perché stiamo a casa Giove, ma noi a Grecia abbiamo le case e paghiamo le tasse. Ci torniamo costantemente anche con i nostri figli e nipoti, portando economia, ed è giusto anche avere dei servizi. Invece a mia cognata viene rifiutata la dialisi in un ospedale pubblico che ora è classificato addirittura di primo livello per essere dirottata in una struttura privata. È davvero una cosa scandalosa. Ci siamo già rivolti al Vice Ministro per la Famiglia e la Disabilità, Sottosegretario Vincenzo Zoccano, conclude Pina. Sottosegretario Vincenzo